Bene amici, lui è Realme 9 Pro Plus e le luci alle mie spalle non sono settate a caso un aggettivo camaleontico e poi durante la recensione vi farò vedere come cambia colore e quando cambia colore da fare una considerazione rispetto a Realme 7, 8 che mi sono piaciuti molto questo 9 alza ancora l'asticella, bella la fotocamera, la principale Sony, 50 megapixel stabilizzata otticamente un medio di gamma che ha un bell'AMOLED 90Hz, un sensore di importicità sotto lo schermo che funziona bene soprattutto è sottile e leggero, ma sì c'è un ma, è ottimo, sempre un buon rapporto qualità prezzo e il ma è generalizzato, i medi di gamma stanno comunque un po' lievitando il prezzo ma nonostante questo lui mi è piaciuto molto, andiamo a scoprire come si trasforma e cosa ne penso e partiamo subito dalla confezione che devo dire è ricca perché contiene la coverina fortunatamente trasparente così da farlo vedere e ecco questo non l'ho provato se mettendolo e qua ve lo svelo sotto al sole cambia colore anche con la cover ma penso di sì perché appunto è trasparente e oltre al telefono troviamo l'alimentatore velocissimo, esce a 60W purtroppo non Type-C ma USB standard ma la batteria, poi vabbè in confezione c'è anche il cavo USB Type-C, non ci sono gli auricolari ed ha 22,5Wh, questo vuol dire che in 30-35 minuti lui è carico e il 50% lo fa in 13 minuti non ha la ricarica wireless ma direi di farvi subito vedere questa caratteristica qua un telefono che ha una cam ultravioletta, cioè una cam più che una cam un illuminatore e guardate cosa succede se io vado a illuminare con l'ultravioletto la cover posteriore cambia colore diventa rossa, più che rosso è un rosa scuro, un bordeaux e ovviamente mettendo il telefono a luce del sole oppure anche una lampada UV qua, se volete abbrozzarvi, lui diventerà di questo colore qua veramente particolare, anche particolare la trama quasi glitterata, glitterosa e ovviamente ci mette pochissimo, 5 secondi a diventare di questo colore poi circa una ventina a tornare azzurro se lo coprite oppure se lo togliete dai raggi UV bello, mi piace perché è una cosa diversa, Realme fa sempre dei design diversi ed è da premiare 50 megapixel, vi dicevo la principale, poi 8, 119 gradi la grande angolare e la solita inutile cam per le macro accessione e spegnimento da una parte e volume dall'altra, mi piace molto, non mi confondo mai e poi niente espansione memoria ma due sim tutte e due in 5G la memoria è da 8 di RAM, 128, purtroppo UFS 2.2 però devo dire che non impatta tanto nelle prestazioni, poi ve le faccio ovviamente vedere doppio microfono e jack delle cuffie, veramente, grazie Realme che continui a metterlo audio stereo e type C, non esce il video always on display con la notifica delle varie applicazioni, molto personalizzabile display che mi è piaciuto tanto ma andiamo con ordine 7,99 mm, spessore veramente sottile ma soprattutto leggero sarà che la batteria è da 4500 mAh quindi non è stra pesante sarà che è sottile ma 182 grammi con un bel touch and feel cioè si tiene abbastanza bene in mano, non è un padellone incredibile Wi-Fi 6 ma vi parlo subito di autonomia vi dico subito, buona, si arriva a sera della giornata stress con un buon 15-20%, più 20 che 15 io guardate ho fatto, mi sembra 19%, era mezzanotte e 59 perché mi sto scimmiando con una serie su Netflix e 6 ore e 16 minuti di display ok, ovviamente c'è la carica notturna ottimizzata per non andare a stressare la batteria caricandolo sempre a 60 Watt diminuisce un po' la carica e ve lo fa trovare pronto al mattino man mano impara e vi dicevo dello schermo, bello, luminoso, 90 Hz ma soprattutto quello che mi piace proprio perché appunto sto guardando questi video di notte sostanzialmente mi rendo proprio conto di come anche a bassa luminosità non abbia nessun tipo di problema né di flickering ovviamente essendo a 90 Hz ma neanche di scritte che si impastano o diventano rossastri tipiche degli AMOLED di bassa qualità qua invece la qualità è alta anche come angolo di visione anche come riproduzione dei colori insomma display direi decisamente bene anche l'uminosità massima sotto la luce del sole non ho trovato grossi problemi mannaggia ho tolto e cancellato le notifiche perché una delle critiche è un po' come sempre faccio sui Realme che quando si tappa sulle notifiche, sui vari messaggi non si può andare all'applicazione che ha notificato ma si va ai vari messaggi oppure si può andare a notifica per notifica vabbè questa è una mia battaglia contro le ROM diciamo Oppo, Realme, OnePlus che spero di vincere poi ma non vincerò mai schermata di Google andando a fare lo swipe a destra è abbastanza pulito come sistema Android 12, Realme UI 3.0 poi vi faccio vedere le novità ma prima parliamo di parte telefonica ovviamente il dialer è quello standard, stock di Google bello, riconosce lo spam purtroppo qua non si può registrare la chiamata ma per questo sto chiamando il 160 Andrea è il 190 ma vi anticipo che la ricezione è buona vi dice prima 5G su tutte e due le sim e anche la voce potente sentite? Molto alto si riescono a fare chiamate in via voce l'unica cosa il microfono non sensibilissimo in via voce molto confortevole invece anche dall'altra parte la chiamata quando lo stiene all'orecchio bene il sensore di prossimità ma i microfoni spostandosi di circa un metro dalla bocca poi fanno un po' fatica a capire ma vi dicevo della ROM bello il blocco con il widget c'è anche il blocco con il doppio tap le novità quali sono? che c'è una sorta di possibilità di avere dal multitasking questa cosa qua la finestra mobile quindi alcune applicazioni non tutte possono essere messe in finestra possono ovviamente essere allargate possono essere messe poi a tutto schermo ma soprattutto ah no non volevo chiuderla volevo farvi vedere una cosa si possono anche mettere lateralmente e diventano una iconcina che poi ovviamente andando a beccare il punto giusto si può allargare e poi richiudere ma sempre nelle impostazioni informazioni sul dispositivo vi dicevo Android 12 mi stanno disturbando con tutte queste notifiche patch di dicembre la mia cantinetta dice che Realmea aggiorna abbastanza ma quello che mi piace è che il software è molto completo per quanto riguarda le funzioni anche le personalizzazioni ce ne sono tante dall'always on agli sfondi alle iconi impostazioni rapide eccetera 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 non ci sono i temi però devo dire che è un software affidabile quindi non ho trovato grossi no non grossi non ho proprio trovato nessun tipo di problema nell'utilizzo di questa settimana in cui l'ho avuto sotto embargo come girano le applicazioni visto che il processore non è Snapdragon Qualcomm è Mediatek il Dimensity 925G allora vi devo dire da buon medio di gamma lo paragonerei a uno Snapdragon serie 7 abbastanza fluido abbastanza veloce c'è una cosa che mi piace tantissimo di questo telefono ma vabbè ve lo dico subito il feedback della vibrazione è veramente super super preciso sia quando si va a scrivere sulla tastiera ma anche quando arriva qualche notifica e questo comunque è sinonimo di una certa cura generale dell'hardware del telefono quello che non mi fa impazzire è appunto qualche lag che ho trovato quando lo si utilizza in maniera veramente stressante a volte vedete anche adesso che ho chiuso l'applicazione qualche lag c'è vabbè uso quotidiano veramente nessun problema sull'uso quotidiano vi piace segnalare il fatto che ci sia il jack per le cuffie l'audio sia stereo e la potenza dell'audio sia buona alzo il volume sentite è buona anche la scena stereofonica potrete usare le vostre cuffie analogiche ma facciamo un passo indietro per quanto riguarda la velocità del generale dei giochi il caricamento non è fulminio Real Racing ci mette 14 secondi proprio perché le UFS non sono 3.1 ma 2.2 però c'è la modalità gioco che devo dire ottimizza va a chiudere un pochino di cose nella RAM e va anche a registrare lo schermo bloccare notifiche eccetera 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 poi ovviamente giochi vanno bene girano bene nessun problema però ripeto questa UFS 2.2 lo rendono un filino più lento nel caricare ma andiamo alla parte multimediale allora l'interfaccia classica come più o meno tutti i Realme inteligenza artificiale che riconosce praticamente tutte le scene c'è questa nuova modalità strada che permette di fare qualche scatto particolare per esempio vedete scia luminosa ritratto con scia luminose ora di punta pittura leggera praticamente cambiando la foto che vogliamo fare cambia in automatico il tempo di esposizione ce lo setta proprio per fare una foto particolare cosa succede al mio orologio? magari ve lo racconto dopo ho capito cosa succede vabbè e oltre a questo modalità notte che funziona molto bene poi vi faccio vedere gli scatti video massimo 4K 30 frame per secondo ecco da dire una cosa quando si girano i video se si iniziano a girare anche a 1080 con la 1 per non si può andare alla grande angolare bisogna partire con la grande angolare insomma non c'è lo scambio cam poi modalità bokeh modalità 50 megapixel e in altro modalità cielo stellato se vogliamo fare le foto alle stelle allunga molto l'esposizione e la modalità pro che può andare a cambiare questi parametri ma anche la modalità film maker che gira in 21 noni e come vedete permette qualche personalizzazione l'utilizzo manuale della videocamera sapete io sono per i punti scatta ancora di più nei telefoni medio gamma questi sono telefoni che vengono acquistati alle persone per prenderli e tag schiacciare il pulsante e fare le foto e allora sono tutti i punti scatta quelli che vi faccio vedere ma secondo me la qualità è buona sia la 50 megapixel ha un effetto bokeh naturale che mi piace guardate come in primo piano è sfocato la in fondo è sfocato questa non è una foto fatta con l'effetto ritratto foto normale poi grande angolare gran bella giornata quindi un aiuto per questo realme ma comunque le foto sono venute bene sia con la normale sia con lo zoom che fino a 5x interpola bene oltre ovviamente non essendoci un ottico fa un po' fatica molto bene anche la macro vedete anche qua l'effetto bokeh naturale ma anche qua questo fiore messo a fuoco mentre dietro c'è lo sfocatino idem questi fiori l'HDR è abbastanza invasivo quando si mette l'intelligenza artificiale qua Paolo Sarpi con queste bellissime decorazioni per il capodanno cinese ma sono iniziate con il capodanno italiano mi piace sempre questa commistione di culture ma il cielo era azzurro ma magari non così azzurro e queste facciate sono state un po' tirate su diciamo dal telefono belli anche questi fiori ecco qua disattivato tutto in effetti sempre camera posteriore non è stato l'anteriore vedete là come in fondo è bruciato perché non ho usato l'HDR adesso io voglio capire chi cavolo è andato ad appendere delle scarpe anche di marca cioè tipo una era una New Balance là sopra un'altra è uno scherzo di qualche bullo vabbè quindi prove 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 di foto per dirvi che le fotografie vengono bene non è un camera phone ma le fotografie per il 90% delle persone da mettere sui social vanno benissimo tra l'altro io ho messo queste foto su Instagram anche se ero sotto in bar ma non vi ho detto che telefono era e i giudizi sono stati è un buon medio di gamma esattamente quello che è modalità notte molto bella la fotografia guardate se vado a zoomare come ha catturato i dettagli ovviamente tempo un pochino più lungo e qua invece punta e scatta un po' meno bene anche queste foto questa fatta con modalità notte questa fatta invece punta e scatta mi fanno capire come la modalità notte veramente aiuta tanto invece la camera anteriore secondo me Realme poteva lavorare un po' di più sulla cam anteriore perché non è il massimo effetto bokeh anche qua HDR un po' aggressivo un po' effetto green screen ma in realtà ha scontornato bene l'intelligenza artificiale ha capito dove era il giubbino dove era l'orecchio a volte quando ci sono delle situazioni così un po' strane vedete vicino l'orecchio tendenzialmente mi viene tagliato invece qua il software è riuscito a scontornare bene per quanto riguarda i video anche qua buona la messa a fuoco devo dire anche buona la cattura dell'audio da parte dei microfoni lo zoom a rio fino a 10x ma sgrana dopo i 4 o 5x una buona diciamo resa generale anche qua un buon medio di gamma ovviamente non fa video al top ma non è neanche il top di gamma di Realme conclusioni 349 euro il prezzo al lancio sono secondo me il giusto prezzo non da strapparsi i capelli ma il solito ottimo rapporto qualità prezzo di Realme insomma un daily driver equilibrato in tutto con la particolarità della cover camaleontica magari su instagram mi faccio qualche video qualche reel di come cambia il sole insomma sì ve lo consiglio soprattutto per l'affidabilità riscontrata anche del software il software Realme mi piace sempre tanto e appuntamento ai prossimi giorni con 9 Pro e il 9i farò delle flash review per farvi capire le differenze un saluto da andrea graazzi punto com che cosa è successo al mio orologio mi diceva che la frequenza cardiaca riposa era un po' alta ma c'era l'enfasi della recensione vabbè ciao 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 ciao